E' finito! Il Pineto vince la finale playoff! Incredibile il lavoro di mister Marco Pomante festeggiato da tutta la panchina bianca azzurra! I bianca azzurri dunque si impongono per 0 a 1 con un gruppo che si è compattato oltre le difficoltà inutile e difficile trovare un solo elemento che abbia spiccato più degli altri perché la vera forza di questa squadra è stato il gruppo tra elementi giovani e leader Ovviamente il dottor Silvio Brocco, il direttore generale Roberto Gianmarino, la felicità dei bianca azzurri! c'è solo un Presidente, c'è solo un Presidente, c'è solo un Presidente! Portaci, portaci, portaci Europa Sei il mio giorno, portaci Europa Portaci, portaci, portaci Europa Il mio blocco, portaci Europa Ciao! 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 Portaci, portaci Sì, è vero! Sì, è vero! Uh... Braa! Grazie per la visione!